Buongiorno a tutti, sono Leonardo e procederò al sborsamento dello Yamaha acquistato su Amazon a 190 euro. Come vedete è abbastanza chiusura buona, non è avuto grossi problemi nell'invio. L'inboxamento è abbastanza... fatto abbastanza bene. Adesso resta un cellulare. Per omando, con batterie. Distruzioni. CD sul modello. Qui già troviamo le... Questa è il... Il modello. Questa l'antina. Diciamo che la gestura è fatta molto bene. Tutti i pezzi presi. Questa è la parte principale. Il panico è separato. Il panico è separato. Ah, questo è il cavo di... Di raccogli. Questa è la parte dei... 5 più 1. Ho chiuso ancora un... Allora una parte metà. zo.. Allora. due assi il basso altre basse interne e poi anche la parte più grande via questo genere insieme diciamo tutte accuratamente chiuse direi che per il prezzo che ho pagato 190 euro è un buon una buona chiusura poi vediamo sarà offrire più mettiamo fuori una per come ne nuovo quando al negozio stava parecchio diciamo sbagliato una buona percentuale un 30 40 per cento sul negozio quindi grazie amazon e poi alla prossima su questi video via 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 qui qui è qui